non c'è riposo senza amore né sonno senza sogni d'amore pazzi o gelidi ossessionati d'angeli o da macchine il desiderio estremo è amore la nostra fragilità è radicalmente ferita da quelle relazioni che non siano gentili e umane ma fredde e glaciali o anche solo indifferenti e non curanti non siamo monadi chiuse e assediate ma siamo invece vorremmo disperatamente essere monadi aperte alle parole e ai gesti di accoglienza degli altri grazie a tutti 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 grazie a tutti